Voglio spiegare così una cosa, così almeno, e capisco che, pensate quando io giocavo, vi dico una cosa e poi vado via così almeno faccio due rischiate, giocavo e mi diceva una cosa, la seconda cosa che mi diceva, scusi abbia pazienza che io ho capito, allora il cortomuso è semplice, era rivolto al campionato, si lo spiego, era rivolto al campionato, quando mi dicevano la Juventus a Ferrari doveva vincere il campionato di 27 milioni di punti, e io ho detto no, basta vincerlo ad un punto, come il cortomuso, il corto ai cavalli, quella roba lì è stata trasformata nelle partite singole, quindi, è un'opinione, è opinabile, ma non ho detto quella roba lì, è stata travisata e camuffata, è rigirata, travisata e rifrittata, è uguale, non ho detto la sua lì, poi mi ci diverto.